Ola gente, buongiorno a tutti e benvenuti di volta al nostro laboratorio e al nostro canale di YouTube per vedere una nuova ricetta. Oggi iremo a presentare un pò di lò di cioccolato che poi iremo usando per fare la nostra torta. Quindi, guarda il nostro video perché da qui a poco iremo a presentare i nostri ingredienti. Oggi, buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi, già pronti, come potete vedere, abbiamo bisogno di 8 ovos interi, sia clara che è a gemma. Dopo, 300 g di cioccolato di confettino, 50 g di manteica derretita, farina di amèndoa, 220 g, farina di trigo, 50 g, ovviamente il nostro cacao in pò, 85 g. e poi, come potete vedere, ho già montato le cacao di ovo a neve. Sono 5 cacao di ovo montate ben firme. Come potete vedere, la struttura della clara è ben compatta, ben firme. Ora, i utensili che abbiamo bisogno per fare questa ricetta sono ben semplici. Una patella, una penezza per penezzare la nostra farina di trigo e una spatola per misturare. Ora, cominciamo con il modo di preparazione. Allora, già abbiamo i primi tre ingredienti, molto semplici. Voi mettere nella patella, gli uvoli. Dopo, mettere la farina di amèndoa e, insieme, il nostro zucchero di confettino. Ora, è solo mettere la patella, gli uvoli e gli uvoli da crema con un po' di espuma. È ben chiaro, è ben chiaro, è ben chiaro. Mais o meno, più o meno di 2 minuti, gli uvoli da crema ben chiaro. Dopo, ora, vi presentiamo e vediamo come si tornerà. Quindi, già abbiamo messo i primi tre ingredienti. Come potete vedere, sarà un composto ben chiaro, ben esponjoso. Più, meno un minuto, un minuto e mezzo, la massima velocità nella nostra patella. Ora, cosa facciamo? Ora, metteremo gli uvoli da crema ben patella. E poi metteremo la farina di trigo. E poi metteremo le uvoli da crema ben patella. Oggi possiamo aiutare con un po' di crema ben patella. Perchè, possiamo aiutare con una patella. Pronto. Ora, quando patella, con una spatola, possiamo aiutare tutto. Con molta calma, senza fare lo che sto facendo io, qui, sto sugiando tutto. E poi metteremo a crema un composto homogeneo. Molto bene, già abbiamo il primo composto misturato con il cacao e la nostra farina di trigo. Ora, metteremo la ultima parte dei ingredienti. La nostra manteca di recida, una pitada di sal, poca cosa, pronto. Misturiamo un poco. Tra i ingredienti si incorpora bene. E, per ultimo, metteremo la nostra clara montata a neve, in due parti. Cuidate con la clara, perché la funzione della clara nel pò di lò è quella di mettere il pò di lò ben areato e ben esponjoso. Non vamo misturarla molto forte, ma è di un giusto delicato, per non tirare il arco da clara. Da qui a poco, metteremo la nostra parte da clara e vamo a vedere il risultato finale. Ok, il nostro composto sta pronto. Come potete vedere, già abbiamo fatto di mettere tutti i nostri ingredienti. E, ora, dobbiamo mettere una teglia. Cuidate con il pò di lò che vamo usare. Il pò di lò deve essere brilloso, perché c'è un altro tipo di pò di lò che, infelizmente, una volta che, diciamo, un pò di lò passa dal forno e li gruda, e non conseguiamo tirare di un pò di lò, quindi questo sarà un problema. Quindi, questo è un pò di lò ben brilloso e, anche, passiamo un po' di manteca di ricetta con un pincel, per lasciare ancora meno grudoso. Non so come si fa. Allora, vamo mettere il pò di lò nella nostra teglia e vamo mettere il pò di lò ben homogeneo. Molto bene, pessoal, già mettere il nostro pò di lò nella forma. Esqueci di parlare, io mi aiudei con una spatula, no, per mettere il pò di lò ben, e con la nostra formazione e la quantità che abbiamo, ci sono praticamente due formazioni di questo tipo. Ora, vamo mettere in un forno pre-credito a 160 gradi, tra 12 e 14 minuti. Questo dependerà, dopo, sempre, del tipo di forno che avete. Normalmente, però, il tempo è tra 12 e 14 minuti. Questo è il nostro risultato. Ora, come potete vedere, l'altura è più o meno di un centimetro. Ora, per tirarlo da forma, di un giusto molto semplice, eh? Vamo da' a volta nello, assì, e, con molto cuidado, vamo tirando il nostro papel. Stai vedendo come si tira facile? Questo perché abbiamo usato questo papel, diciamo, brilloso, che non gruda. Perché, se avessimo usato un papel tipo questo, eh? Come potete vedere, questo è un papel così, infelizmente, il gruda. E, dopo, per tirarlo è molto più complicato. Lo stesso che passiamo manteca nello, Fica molto più complicato, eh, tirare, poi, sul papel. Quindi, ricordatevi, è molto importante questo tipo di papel. Buon, una vez pronto, eh, adesso, colocareli, eh, conservati dentro di una geladera. Colocamo un papel, eh, di forno di manteca, insieme, tambien. E deixamoli dentro di una geladera, pra, non deixareli seccare. Osea, non si conserva fuori dalla geladera. Eh, buon, gente. Eh, diciamo che, eh, per il video di oggi è tutto. Oggi, ti abbiamo rappresentato questo po' di roddi cioccolaci. Eh, e spero tutti voi, per i prossimi video nel nostro canale di Youtube della Scuola di Gelateria, Progetto Gelato Italiano. Non esqueci di iscrivervi al nostro canale per avere più dici e più ricette che iremo facendo. Aos poco, veranno, iremo facendo torta e altre cose. E, eh, tambien, in basso, encontrarà i nostri linki delle nostre redi sociali, Facebook, Instagram, eccetera. Quindi, un bacio, un bacio, un bacio in italiano. Un bacio per a tutti. E spero a voi per il prossimo video. Ciao, gente!